A proposito, lui è crosta. Patetico, vero? Solo un pochino. Frad mi ha insegnato a farlo diventare giallo. Vuoi vedere? Sì. Per... Qualcuno ha visto un rospo. Un ragazzo di nome Navi l'ha perso. No! Oh, state facendo magia. Vediamo allora. Per il sole splendente, per il fior di corallo, stupido topo diventa giallo. Sei sicuro che sia un vero incantesimo? Beh, non funziona, direi. Naturalmente anch'io ho provato a farne alcuni semplici e mi sono riusciti sempre. Per esempio... Oculus Reparum Va meglio? Dico bene. Per tutte le cavallette! Tu sei Harry Potter! Io sono Hermione Granger. E... tu sei? Piacere. Vi conviene indossare le vostre divise. Credo che manchi poco all'arrivo. Hai dello sporco sul naso, a proposito. Lo sapevi? Proprio qui. Piacere. Ciao. Piacere.